dal vangelo secondo giovanni in quel tempo disse gesù ai suoi discepoli non si è turbato il vostro cuore abbiate fede in dio e abbiate fede anche in me nella casa del padre mio vi sono molte dimore se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto quando sarò andato e vi avrò preparato un posto verrò di nuovo e vi prenderò con me perché dove sono io siate anche voi ed è luogo dove io vado conoscete la via gli dice tommaso signore non sappiamo dove vai come possiamo conoscere la via gli disse gesù io sono la via la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me